Tutti da dove era stato ricoverato in gravi condizioni Davide Gavazzi, calciatore dilettante di 28 anni. Il giovane si era sentito male ieri pomeriggio sul campo di calcio a Gavinana di San Marceglio Piteglio, siamo nella provincia di Pistoia. Il 28enne aveva accusato un malore durante il riscaldamento prima della partita di Coppa Toscana di seconda categoria tra le due squadre della provincia di Pistoia. Si era accasciato al suolo perdendo i sensi. Covid in Toscana, 2.282 nuovi casi, 4 i morti, il tasso risale ma salgono anche i ricoveri e tornano sopra 500. Un paese completamente al buio, dalle 23.30 alle 6 con ronde di carabinieri per garantire la sicurezza. È il piano studiato dal piccolo comune di Badia Tedalda, siamo nella provincia di Arezzo, cittadina toscana di 1000 abitanti sull'Appennino, che andrà al voto domani sera al Consiglio Comunale. Ad anticipare il provvedimento via social, il Sindaco. Oggi il Presidente nazionale di CNA a Firenze nel corso dell'Assemblea ha detto nel dicembre 2021 erano già 200.000 le imprese che minacciavano di non poter continuare con la produzione. Oggi la situazione è addirittura peggiorata. Continuo a sentir parlare di aziende energivore mentre è ora di incominciare a parlare seriamente con competenza di imprese con alta incidenza della spesa energetica. E manifestazione oggi a Piombino contro il rigassificatore, siamo più di 3000. Questa è la risposta dei piombinesi contro l'arroganza del commissario Gianni che non ci ha voluto incontrare. Gianni dimettiti, questo oggi chiedevano e chiede Piombino la manifestazione di oggi. Domani tra l'altro ci sarà l'incontro proprio sul rigassificatore e intanto il sindaco di Piombino ribadisce il suo no all'opera che dovrebbe nascere proprio davanti alla cittadina, al porto cittadino. E a questo proposito proprio il sindaco di Piombino ha detto oggi invierò un parere al presidente Gianni a cui faccio un ultimo appello, mosso dalla voglia di difendere questo territorio continua il sindaco di Piombino. A Gianni chiedo di ricoprire il suo ruolo di commissario come la legge gli impone di fare. Non è stato nominato commissario per autorizzare, è stato nominato al fine di verificare se l'opera è autorizzabile o non autorizzabile. E oggi il sindaco di Firenze Nardella ha detto nessuno ha mai pensato di dare ai dipendenti comunali il weekend lungo. Chiudere gli uffici il venerdì significa approfittare di tre giorni consecutivi dove la chiusura degli uffici con lo spegnimento della luce e dell'energia diventa un fattore di risparmio forte. La consecutività dei giorni ci porta ad avere un risparmio maggiore. Saremo rigorosi, come sempre, continua il sindaco, nel controllare che i dipendenti che stanno a casa svolgano il lavoro come se stessero in ufficio. E oggi Caterina Abini, ex senatrice del PD, ha detto non so se ci sarà un rimpasto in giunta regionale, questione che nel caso compete come giusto al presidente, so certamente però che io non entrerò a far parte della giunta. Dopo tanti anni di ruoli politici e istituzionali, continuo Abini, dopo la battaglia persa alle elezioni politiche ho bisogno di prendere altre strade. Lo faccio con la serenità di chi ha dato molto e avuto molto. E sempre a proposito della politica, il sindaco di Firenze Nardella ha detto non vorrei essere nei panni della Meloni perché gestire una maggioranza così francamente mi pare molto complicato. Se il buongiorno si vede dal mattino c'è da rimboccarsi le maniche e fare un'opposizione dura perché l'Italia non si può permettere una coalizione così sgangherata che già nei primi giorni ha dimostrato di non essere in grado di lavorare in squadra. E poi ha intervenuto anche su quanto detto dal presidente Berlusconi, questo è molto preoccupante anche per chi come noi sta sul territorio e chiede risposte subito a cominciare dalla crisi energetica. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso anche l'organizzazione di matrimoni di comodo tra cittadini italiani e extracomunitari. Queste le accuse contestate a vario titolo che hanno portato all'arresto di quattro persone e a cinque misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Pistoia e coordinata dalla procura della città toscana. Ed è stato scarcerato l'imprenditore fiorentino Niccolò Donzelli, fratello di Giovanni, parlamentare di Fratelli d'Italia. Era stato arrestato il 13 ottobre scorso in esecuzione di una misura di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta della procura di Firenze su presunti fallimenti pilotati. E quattro minori o maggiorenne sono stati denunciati dal commissariato di Ponte d'Era nella provincia di Pisa con l'accusa di rissa per quanto accaduto il primo ottobre scorso dopo l'incontro di calcio, categoria allievi provinciali, tra le squadre del Romito e San Frediamo a settimo nel campo del Romito. Per i cinque denunciati, due del San Frediano e due del Romito, spiega una nota della polizia che li ha individuati attraverso l'analisi dei filmati postati sui social e il riconoscimento formale dei partecipanti, è scattato anche un daspo della durata di un anno. In corso l'esame di altri filmati per identificare e denunciare gli altri partecipanti alla rissa post-calcistica. Vediamo come sarà il tempo domani, sarà nuvoloso, con possibili piogge, i venti sono moderati, i mari sono mossi, le temperature in aumento le minime, in calo di 3-4 gradi le massime. Telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.